Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Viaggi senza valigia. Sono itinerari di una giornata che ho pensato per ispirarvi alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze del Piemonte. Oggi poi in particolare, come vedete, non sono neanche sola, ho il supporto qui degli innamorati. L'itinerario di oggi vi porta a Cherasco. Cherasco è una cittadina in provincia di Cuneo, non molto lontano da Bra, e qui possiamo fare una passeggiata nel centro cittadino. È particolarmente interessante perché è un antico dominio visconteo, quindi potete ammirare ancora i resti del castello visconteo. Una passeggiata per le strade, soprattutto vi consiglio di passare attraverso l'arco del Belvedere. Vi consiglio di lasciare la macchina appena fuori dall'abitato di Cherasco per entrare attraversando l'arco del Belvedere. Per poi andare a spasso per le vie della cittadina, in modo da scoprire questa bellezza che ha origini molto lontane, perché ha origini addirittura dell'età viscontea. E potete ammirare il castello all'interno delle mura, che è ancora molto ben conservato. Dopo aver passeggiato, potete andare a mangiare. Vi consiglio la trattoria pane e vino, in cui si mangiano ottimi piatti della cucina tradizionale piemontese, rivisitati da un cuoco che sa il fatto suo. Dopo pranzo ci spostiamo poco lontano alla Morra. La Morra è una delle località più famose delle Langhe e vi suggerisco di andare a vedere soprattutto la balconata salendo nel paese della Morra, arrivando nel centro del paese e veramente dopo questa breve salita, affacciarsi su questa balconata da cui si possono vedere tutte le colline intorno, vi dico che per me è stata un'emozione grandissima. Se il pranzo non vi ha troppo riempito, tornando verso l'ufficio turistico, vi consiglio di fermarvi alla gelateria che trovate alla vostra destra. C'è un gelato al moscato che è davvero notevole. Assaggiatelo perché è una prelibatezza. Sempre alla Morra, ci sono delle enoteche e c'è anche la possibilità quindi di, prenotando e effettuare delle degustazioni dei vini tipici della zona, qui appunto abbiamo vini molto pregiati, quindi una cittadina che si presta davvero a molteplici sfaccettature. Per chi invece vuole continuare a passeggiare, allora sempre in zona c'è da andare a vedere la Cappella del Barolo. È famosissima perché è una cappella colorata. È stata completamente ristrutturata negli anni scorsi e quindi riaperta al pubblico da Liewit e Fremlett. Sono due artisti statunitensi che hanno ridisegnato, ricreato da queste cappelle che si trovano spesso disseminate nelle campagne chiemantesi e ne hanno fatto davvero un esempio da andare a vedere. È una passeggiata un po' lunga, vi avverto, ma è tutta tra i vigneti, per cui sostanzialmente la passeggiata è poi comunque piacevole. E il fatto che questa cappella sia tornata, perché una volta invece era possibile arrivarci in macchina, ma sostanzialmente questo creava un effetto parcheggio. La cappella è tornata a spiccare in mezzo alle colline in solitudine e questo dà veramente un grandissimo senso di pace, sperando di riuscire a vederlo in una giornata in cui non c'è troppo affollamento. Sempre dalla morra, nella collina di fronte, potete ammirare il cedro del Libano, del Libano, che è un albero secolare con una storia alle spalle. Ma per questo e per altri particolari vi invito ad andarmi a cercare sul sito www.traciao.it e sapere i dettagli anche di questa storia. Ciao!